E allora ragazzi, dopo aver visto la pubblicità di questo videogioco praticamente dappertutto, soprattutto qui su YouTube, ho deciso di provarlo insieme a voi. È un videogame per smartphone, Marvel Snap, vediamo di cosa si tratta. Vediamo se è un videogame vero e proprio se è più uno scaccia pensieri, anche se i ragazzi scaccia pensieri sono dei videogame in tutto e per tutto, eh? I G-Tiger insegnano. Allora, vediamo un po'. Allora, questa è una sorta di tutorial per imparare a giocare, vediamo un po' come si gioca, vediamo un po'. Allora, turno, quindi ci sono sei turni, uno su sei, sei turni. Allora, mettiamo Spider-Man, qui c'è un solo campo, ma in realtà io non ho visti tre, sono tre campi da gioco, qui c'è solo uno centrale. Ok, chi ha più forza vince, logicamente, quindi... Però c'è un altro valore oltre la forza, che è l'energia, che sta a sinistra ed è blu. Sostanzialmente, ragazzi, noi dobbiamo fare più punti, ecco qui che i campi diventano tre, come vi dicevo. Dobbiamo fare più punti del nostro avversario, o in generale, oppure, dobbiamo, che ne so, su tre campi vincerne almeno due. Quindi avere un numero di punti maggiore su due campi rispetto al nostro avversario. E dobbiamo stare attenti anche ai punti energia, che adesso qui non vediamo, ma sono molto importanti, insomma. Comunque lo vedremo in seguito. Allora, qui stiamo vincendo su tutti e due i campi. Turno quattro. E poi ogni campo ha una particolarità. Vedete, tocca un campo per scoprire le sue caratteristiche. Ok? Quindi si può raddoppere la forza, può farti pescare un'altra carta, può togliere qualche punto all'avversario. Quindi ogni campo ha le sue caratteristiche, devi giocare la carta giusta per ogni campo, è fondamentale. Questo è un videogame che si avvicina più a uno scaccia pensieri, come vi dicevo, ma sono quei classici scaccia pensieri, ragazzi miei, che una volta che inizi a giocarli non smetti più. Perché sono facili, intuitivi, veloci, messi così a turnazione, quindi si viene a creare anche una certa suspense, no? Quale carta ha giocato l'avversario, quanti punti farà, quindi ti prendono, ti prendono, sanno coinvolgerti. Non hanno grafica, non hanno gameplay, non hanno nulla, sono appunto degli scaccia pensieri, ma sono quegli scaccia pensieri che comunque ti prendono, ti lasciano con gli occhi incollati allo smartphone. Comunque qua stiamo vincendo su due campi, su uno stiamo perdendo, ma non ce ne frega nulla, perché comunque alla fine basta vincerne due su tre. Ok, quindi nel primo campo vince lui, ma nel secondo e nel terzo vinciamo noi, ragazzi, e quindi turno decisivo, sì, vabbè, ma comunque vinciamo noi, ragazzi. Un campo è sicuro nostro, quello centrale, ma anche l'ultimo campo, il terzo, quello di destra, anche quello è nostro. Infatti dal gioco qui Hulk, così mi assicuro questo campo una volta per tutte e stiamo a posto. Ok, vinciamo noi, senza problemi. Ecco qua, vittoria, e vai. Le vittorie ci danno delle cose. Ci permettono di migliorare le carte e ci permettono di sbloccare altre carte che poi potremo aggiungere al mazzo. Allora, qui migliora visivamente, vabbè, infrange la cornice, non so fino a che punto possa servire sta roba qui, perché non aumenta né forza né energia. Però comunque lo facciamo, perché è sempre una cosa in più. Adesso diventa 3D, qualità aumentata rara, va bene. Non so spiegarvi sinceramente cosa vuol dire di preciso, insomma, però non credo che porti a un miglioramento della carta chissà chi. Ogni carta, come vi dicevo, proprio come ogni campo ha i suoi effetti, quindi potrebbe darti più forza, potrebbe raddoppiarti i punti, potrebbe permetterti di pescare un'altra carta. Insomma, tante, tante cose da guardare prima di giocare una carta sul tavolo da gioco, sul campo da gioco, per meglio dire. Va con quest'altra partitina. Adesso entrano in ballo i punti energia, che sono quei valori che sono alla sinistra, in blu. Vedete? Attenzione perché sono importanti, perché noi partiamo con determinati punti energia e in base a quelli possiamo giocare le carte. Ossia, quindi se abbiamo un punto energia, potremmo giocare una sola carta che abbia un punto di energia. Se per esempio abbiamo tutte carte con 2-3 punti di energia, dobbiamo saltare la mano perché non possiamo giocare nessuna carta, in quanto abbiamo un solo punto di energia. Adesso proseguiamo questa lotta, vediamo un po' come finisce. Credo che questa sia ancora una lotta versione tutorial, non avere a propria partita. Dunque lo vedremo alla fine, lo vedremo alla fine. Allora qui, un campo stravincia lui, un campo stravinciamo noi. Adesso, qua che ci dice? Che ci dice? Ah, ci dà due carte. I campi adecenti, eh beh, dà più 2 di forza alle carte sui campi adecenti, questo più 1 forza per ogni carta avversaria in questo campo. Ok, vediamo un po', giochiamo Mr. Fantastic, lo mettiamo qui. Nei campi adecenti gli diamo un po' di forza. Eh, 3 contro 2, o meglio 3 a 2, più che 3 contro 2. Allora qua Iron Man che raddoppia i punti. Vediamo, abbiamo Quicksilver, The Punisher. Vediamo l'effetto di The Punisher, eh. Guardate. E giochiamo The Punisher, però vediamo sul campo centrale. Lo buttiamo lì, ragazzi, lo buttiamo lì. Possiamo selezionare un'altra, selezioniamo Quicksilver, lo buttiamo sempre sul campo centrale. Tanto uno l'abbiamo vinto, sicuro. Uno l'ha vinto lui, sicuro. E quindi adesso ce la giochiamo sul campo centrale, ragazzi, in dove siamo in vantaggio. Allora, Abomination, Iron Man durante il sesto turno. Ah, quindi le carte possono essere giocate solo lì. Allora, vediamo Abomination, lo mettiamo qui a suo punto. Vai con Abomination e ci buttiamo... Ah no, Iron Man non possiamo giocarlo. Allora, Abomination va e conquistiamo altri punti. Lui qui gioca una carta. Quanti punti fa? 5, quindi rimane sotto di poco. Ma stiamo vincendo ancora noi la partita perché abbiamo due campi su tre. Allora, mettiamo Hulk su questo campo qui e vediamo un po' come finisce. Boom, 12. Dai, 3 capirai. Ciao bello. Vittoria, 2 a 1. Dai, e anche questa è sfangata. Ottimo lavoro. Migliora visivamente un'altra carta. Va bene. Miglioriamo Hulk. Miglioriamo Hulk. Cornice in franta. Beh, queste cose che poi non servono a niente, ma non so perché. Non credo che portino vantaggi alla carta. Sicuramente non si alzano né i punti energia né i punti forza. Quindi, che mi serve? Vabbè. Comunque. Proseguiamo. Vediamo un po'. Tutto nero? Dio sparito? Sentinella è in attesa nella tua collezione? Ok, ma ci fanno vedere come si compone il mazzo. E infatti, modifica il mazzo qui. Apri il tuo mazzo. La tua nuova carta. Rimpiazza Shocker. Vabbè. Ok. Poi, per fare il mazzo, ovviamente, dovremmo controllare bene le abilità delle carte. Perché non è che si può rimpiazzare così. Adesso lo facciamo. Poi controlliamo per bene tutte le abilità delle carte. E comunque, vediamo. Inserisci un nome Eagle. Da The Golden Eagle. Ovviamente. Of course. L'abbreviativo di The Golden Eagle. Mettiamo solo Eagle, solo Aquila. Jayden. Giochiamo contro il Jayden. Turno 1. Vai. Primo campo. Dei carti costo 6 hanno il costo ridotto di 1. Vabbè, non è una grande cosa. Quicksilver. Partiamo con lui. Per forza è l'unico che abbiamo ad 1. Me la rischio. Lo metto sul centrale. Me la gioco. Me la rischio. Lui lo butta dall'altra parte, Quicksilver. Noi abbiamo buttato sul centrale. Adesso si apre il centrale. Vediamo se abbiamo fatto bene a buttare Quicksilver qui. Gli effetti sono raddoppiati. Sì, sì, sì. Gli effetti della scoperta sono raddoppiati. Quindi abbiamo fatto bene. Non raddoppia Quicksilver perché già l'avevamo buttato prima. Però, ora raddoppiano tutti questi altri. E infatti ci buttiamo lui. Starlord. Vediamo un po' lui che fa. Dai. Oh, sbrigate. Ah, lui gioca ancora lì. Prende un'altra sentinella nel mazzo. Scusate. Vabbè. Punti complessivi avanti lui, eh. Però attenzione, attenzione. Terzo campo. Allora, allora. Chi buttiamo sentinella? O misti? Sentinella, sentinella. Buttiamo sentinella. E poi possiamo buttare pure i misti. Sì. Dove la piazziamo? Eh. Decisione tragica. Tordo intero. O rafforziamo uno dei campi in cui siamo già in vantaggio. Oppure la buttiamo lì e rafforziamo quel campo lì e ce la giochiamo. Ok, allora. Rimaniamo in vantaggio sicuramente sul campo. No. Sul campo centrale passa in vantaggio lui e noi passiamo in vantaggio sul terzo campo. Sul terzo campo passiamo in vantaggio. Prendiamo un buon vantaggio, però stiamo perdendo su due campi e quindi non va bene, non va bene, non va bene. Si glopi solo X-Men, muoviamoci niente, vabbè, buttiamo lui. Pensavo, o meglio speravo che avesse qualche effetto, invece no, niente, non fa nulla. Attenzione, perché lui qui butta sentinella, quindi tre, ma raddoppia e quindi va a serie. Stiamo in vantaggio, ma attenzione. Qui pareggiamo i conti. È tosta questa, ragazzi. Lui sa giocare, noi poi abbiamo appena iniziato, quindi abbiamo un mazzo a dir poco schifoso. Anche se credo che questo gioco ti metta in competizione con giocatori che hanno più o meno il mazzo del tuo valore. O leggermente superiore, o leggermente inferiore, o totalmente uguale. Iron Man, bella mossa, lui fa una bella mossa. Noi rispondiamo così e la sfanghiamo per ora, ma manca il turno decisivo. Siamo in vantaggio su due campi su tre, quindi dobbiamo giocare bene. Un campo glielo lascio. In un campo ha vinto, sti cavoli glielo lascio. E mi gioco una doppia carta. Allora, vediamo un po'. Ah, al campo centrale non posso più giocare nulla, perché sono quattro. Speriamo non giochi nulla nel campo centrale. Allora, Iron Man lo piazziamo qua. E vai. Ah no, non potrei giocare una doppia carta comunque. Ho detto una capolata prima. Vediamo lui che fa. Momenti di tensione. Doppia carta, aia, aia. Vabbè, quel campo ce ne sbattiamo perché l'abbiamo già perso, quindi non ci frega nulla di quella carta. Qui la cosa a quanto va, con la cosa a quanto va, e vinciamo noi, andiamo, e andiamo, e andiamo. Volevi vincere, e invece, te sei, e vabbè, Iron Man, vai Iron Man. Cresce pure Iron Man, ah no. Vabbè, ho spinto continua, non abbiamo modificato Iron Man, ma lo modifichiamo adesso, non c'è problema. Lo modifichiamo adesso. Non è tanto sempre il sistema di pienso, non è niente, come sa. Boh, e se qualcuno è più esperto, ma serve una qualcosa a queste cose, perché secondo me è solo l'inutile perdita di tempo. E abbiamo sbloccato una carta, Jessica Jones. Che non è male, eh, quattro energie e quattro forza, non è male. Eh, io direi di metterla nel mazzo, ragazzi. Buttiamo fuori qualcuno, e mettiamo lei. E chi buttiamo fuori, vediamo un po'. Eh, io direi mesassicrope. Adoro gli X-Men. Li amo, però, è inutile. Cioè, Ciclope qua. O Cyclops. Che io poi pronuncio mezzo in inglese e mezzo in italiano. Vabbè, Cyclops, Ciclope, Ciclope. Un po', faccio un po' delle, dei, dei cocktail. Vabbè, comunque, era lui, raga. Vabbè, dai. Eh, qua si comprano. No. Non spendo una lira. Forse è più tardi, quello del getto accanto è più tardi, non è un problema. Non è un problema. Giochiamo. Dai, mi sta appassionando. Questo, ve l'avevo detto, è uno di quei schiacciapensieri che poi ti infognano. Ti infogni, ti infogni. Su questo schiacciapensieri tu prendi e ti infogni. Fai una partita, o meglio, dici, vabbè, mi faccio una partitella e poi ne fai 300. Non te smuovi più da lì. Vabbè, cominciamo. Chi buttiamo? Medusa. Campo centrale, ce la rischiamo perché i campi alisi non mi piacciono gli effetti. Ah, possiamo giocare pure Quicksilver perché è zero energia e lo buttiamo là. Allora, a questo punto si copriamo subito due campi in attesa. È morto? No, speriamo che no. Speriamo che no. Oh, che dovevo fare? Aia, è fatto bene. È fatto bene, mi sa che morimo noi qua. Vabbè, su un campo pareggiamo, sull'altro va in vantaggio lui di uno. Ha giocato bene. Bella mossa. Bella mossa. Bella mossa. E qua Starlord. Io direi Starlord. Per favore, è l'unico poi che possiamo giocare perché non ci sta un'altra alternativa. Dove lo piazzo? Qua. Direi qua. Direi qui. Lui piazza lì, quindi lui si prende il vantaggio su un campo e io mi prendo il vantaggio sull'altro. Su quello centrale siamo pari, quindi uno a uno. Per adesso uno a uno, vabbè. Vai, alla fine equilibrio. Totale equilibrio. Totale equilibrio. Totale equilibrio che famo. Vediamo un po'. Buttiamo là. Ce la giochiamo su tutti e tre ragazzi. Prendiamoci questo rischio. Che ci frega. Prendiamoci questo rischio. Lui in attesa ci mette sempre vent'anni. Però il problema è che... Questo ci mette vent'anni perché ragiona. E vedi, infatti. Vabbè, la situazione è stata invariata, eh. Un campo parità, un campo a me e un campo a lui. Però nei punti complessivi credo che lui stia sopra. Adesso devo fare bene i conti. Comunque, prima giocamo sta mano, poi contiamo. Allora, vai, vai, vai. Chi gettiamo, regà? Oddio. Chi butto? Adesso sai che ci sto a mettere vent'anni. Dai, Iron Man. Vabbè, ho vent'anni per uno, non fa male a nessuno. Una volta ci metti in eternità a te, una volta ci metto in eternità a io. Allora, noi passiamo in vantaggio su questo campo. Lui passa in vantaggio sull'altro. È praticamente un cane che si morde la cota. No, lui pareggia sull'altro. Non passa in vantaggio, regà. Pareggia. Pareggia. Bene. Bene. Quindi stiamo vincendo noi. Vai, buttiamolo qui, buttiamolo qui. E lui, lui... Bah, o completiamo uno. O andiamo a rafforzare uno di questi altri due. Eh. Anche qui, scelta tragica. Adesso siamo noi quelli che ci mettono vent'anni, comunque. Ma buttiamolo qua, dai. Ultima carta, poi, eh. Non ne posso giocare altre su quel campo. Lui ne butta due su questo centrale. Allora, questo ce lo prendiamo noi. Questo campo qui. Ce lo prendiamo noi. E quindi uno è il nostro. Iron Man, bella mossa. No, 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 non passa in vantaggio. Perù... Ah, no, sì, passa in vantaggio. Mannaggia. Non l'avevo visto bene. Vabbè. Comunque. Nel complessivo, comunque, siamo avanti noi, eh. Abbiamo più punti noi. Allora. Qua. Turno decisivo. Quindi, o la va, o la spacca. Dobbiamo giocarcela molto, molto, molto bene. Molto, molto bene. Un campo è vinto. Gli altri due possiamo vincere o perderli. Vabbè, regà. Io me butto su uno. Tanto, due a uno vinci comunque. Quindi un campo glielo do a prescindere. E un altro me lo vado a prendere. Forse. 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 Oddio. Momenti di tensione. Vai. 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 Questo. Questo è il nostro. È il nostro. Questo. Chi c'è qua? Ah. Non va a vedere più una del là. E uno è il nostro. E andiamo. E andiamo. Uno a uno. E questo? Che ha fatto? Che ha fatto con questo? Due a uno. No, no. Abbiamo vinto comunque noi. Eh. Qui è stata tosta, eh. Una vittoria risicata. Una vittoria risicata. Come si dice dalle mie parti. Eh. Qua è stata veramente, veramente molto, molto tosta. Il ragazzo, il ragazzo si batteva bene. Il ragazzo si batteva bene. Però noi abbiamo vinto lo stesso. Non c'è storia. Non c'è storia. Adesso. Vediamo un po' il mazzo. Se possiamo fare qualche modifica. Se possiamo aggiungere o togliere. Vediamo un po'. Intanto qui le solite cornici. Infranta. Regà, scrivetemi se serve qualcosa. Qualcosa a sta roba qua. Chi sblocchiamo? Casar. Casar. Non ricordo neanche se si pronuncia così, ragazzi. Ma secondo me sì. Porca miseria. Mica me lo ricordo. Vabbè, regà. Nel caso, scrivetemi pure come si pronuncia. Quella carta lì. Eh. Lo mettiamo nel mazzo. Perché vale la pena. Lo mettiamo nel mazzo. Che dite? Io lo metto. Io dentro. Casar. Lo butto. Oddio, potrei togliere. Vabbè, dai. Andiamo così, andiamo così. Perché stavo pensando di togliere, ok. Però poi mi sono ricordato che comunque serve qualcuno che ha poca energia. Altrimenti rischia al primo turno di non piazzare neanche una carta. Quindi lo lasciamo nel mazzo. Anche se fino adesso a me non mi è mai capitato. Qui due carte di default ci mette il gioco. E non so per quale motivo, dato che stavamo in parità prima con 0 punti io e 0 punti lui. Siamo in parità adesso con 9 punti io e 9 punti lui. Era più logico metterla una in un campo per me e una nel campo opposto per lui. Quindi che so, io nel campo di sinistra e lui nel campo centrale. Quella carta da 9. Allora giochiamo tutti e due sullo stesso campo, tutte e due la stessa carta. E quindi rimaniamo in parità. Quindi il primo turno è andata così. Andata così. Si consegna gli archivi così. Piazziamo Medusa. La piazziamo al centrale. Vai Medu. Lui che piazza però. Ah, lui non piazza niente perché evidentemente non aveva abbastanza i punti energia. Non aveva abbastanza, scusate, punti energia. Ottimo. Bene. E qui passiamo in vantaggio. Ci prendiamo un bel vantaggio. Sia nei numeri, nei punti, scusate, complessivi. Sia sui singoli campi. Dato che uno è già nostro praticamente. A meno che lui adesso non butta una carta da 6 o più sul campo centrale. Però è attaccato anche sul terzo. Quindi lui ha sempre un turno di ritardo, ragazzi miei. Infatti qua, beh. Però Mr. Fantastic gli dà una mano. Abbiamo sempre due campi noi e uno lui. Con cui va da lui con quel turno di ritardo un po' con la giocata di Mr. Fantastic. Un po' lo ha recuperato quel turno in meno. Che ha rispetto a me in cui lui non ha buttato carte. Però pesa ancora nel complesso. Pesa ancora. Buon per noi. Buon per noi. Vai con la cosa. Andove la buttiamo? Vai qua. Ma prendiamoci tutti i campi. Tutti li voglio. 3-0 K8. 3-0 K8. E non lo faremo il K8. Questo è sicuro. Perché lui qui passa in vantaggio. E lui qui passa in vantaggio. Adesso sta vincendo lui. Attenzione. Attenzione perché ha recuperato il turno in meno. Bravo. Molto sveglio ragazzo. Gioca bene. Ma noi vinciamo lo stesso. E adesso vi faccio vedere come. Ah eccolo qua. Vedi? Parli del diavolo e spuntano le corna. Sentinella. Studiamocela bene ragazzi. Perché lui è bravo. E quindi mi interessa molto battere questo giocatore. Perché più sono bravi e più c'è gusto a vincere. Facile vincere con quelli che non valgono nulla. Lui è bravo. Vediamo. Dai. Azzardo sta mossa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. È un azzardo eh. Perché dovevo dividerle le carte. Era meglio. Era meglio dividerle in due campi diversi. Però azzardo. E vinco. Vediamo un po'. Sì. Eh. Sì sì. Dovevi vincere. Sì. No. Sono sotto di uno cavolo. Ho sempre un... Eh. Tosta. Tosta. Perché qui sono sotto di uno al campo centrale. Mentre su quello di destra di due. Non è una grossa distanza. Però questo è il turno decisivo eh. Eh. Quindi che faccio? Do per vinto il campo di sinistra. E butto una carta su un campo solo. Oppure. Vediamo un po'. Oppure gioco due carte su due campi. Che faccio? Che faccio? Vai. Me la rischio regà. Me la rischio. Vediamo un po'. Vabbè. Il campo centrale è suo. È ufficiale. È ok. 1-0. Il campo di destra è nostro 1-1. Ed è nostro anche il campo di sinistra. 2-1. Niente cappotto. Ma comunque. Vinciamo. E vai. E andiamo. E andiamo ragazzi. Un'altra vittoria. Un'altra vittoria. Altra attacca. Sulla cinta. Per noi. Qui ha belle solide cose. Su ste carte. Chi sblocchiamo? Nessuno. Non sblocchiamo nessuno. Perché. Ci serve un altro punto. Per sbloccare Mr. Fantastic. Che è una buona carta. Comunque. Quello aveva un mazzo. Migliore del nostro. Stava più avanti di noi. Perché aveva Mr. Fantastic. Quindi aveva giocato. Più partite di noi. Quindi era più forte. Quindi ragazzi. Abbiamo battuto uno più forte. Quindi. Tanta. Tanta roba. Vai. Un'altra partitella. Ce la facciamo. E vai. Allora. Vediamo un po'. Buttiamo. Buttiamo Quicksilver. Per forza. Perché non possiamo buttare nessun altro. Quindi o lui. O saltiamo il turno. E non conviene saltare il turno. Ovviamente. Però dobbiamo decidere in quale campo buttarlo. Allora. Butto al centro. Perché gli effetti del campo di sinistra sono. Sono vani. Sono inutili. Quindi. Vai. Dritto. Sul campo centrale. Lui butta la stessa carta. Ma sul campo di sinistra. Va bene. Va bene. Non è un problema. Allora. 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 Starlord o Sentinella. Sentinella. o Starlord. Decisione tragica. Altra decisione tragica. Della giornata. Starlord. Buttiamo Starlord sempre sul campo centrale. Un campo. Io lo lasciamo a lui. Ci andiamo a prendere la nostra classica vittoria. Per 2 a 1. Quindi rafforziamo subito un campo. Lui si prende anche un altro campo. Però. Non è un problema. Perché adesso noi giochiamo anche su quello di destra. che poi potremmo giochere anche su quello di sinistra in realtà. Perché è avanti solo di 2. Quindi possiamo conquistarli entrambi. Noi invece abbiamo un discreto vantaggio di 4 punti. Sul campo centrale. Non è tantissimo. Ma stiamo messi comunque meglio di lui. Andiamo sul campo di sinistra. Gli facciamo la guerra lì. Sul campo di sinistra. E lui torna sul campo di sinistra a giocare una carta. E per adesso ci sta battendo. Di poco. Di poco. Ma. Nel complessivo siamo più forti noi. Però se lui vince 2 campi su 1. Anche se ha meno punti di noi. Vince comunque lui la sfida. Perché è così. E quindi. Vai con la cosa. Vai con la cosa. Sto decidendo se sul campo di sinistra o sul campo di destra. Destra. Sul campo di destra. Vai. Vediamo un po' lui che fa. Due turni alla fine. Dopo questo. Ah va sul centrale per la prima volta. Qui raddoppia con Medusa. E quindi passa in vantaggio. No raddoppia. Mette 3 punti in più insomma. Però noi ci prendiamo il campo di destra. Però siamo sempre in svantaggio. Lui ha 2 campi. Noi 1. E quindi regà. Dobbiamo recuperare. Vai con Iron Man. Che dite? Sì. Su quello centrale. Su quello centrale. Quindi lasciamo scoperto quello di destra. Ma rafforziamo il centrale. Attenzione. Perché lui sul centrale può giocare ancora 3 carte. Noi solamente una. Ma non ha tutto questo tempo. Perché manca un turno solo. Quindi lui si prende definitivamente. Il campo. Ah. Mo'hanno tutte sul centrale. È vero. Mi ero scordato. Non ve l'avevo detto prima. E quindi. E quindi regà. Ce la giuriamo. Ce la giuriamo all'ultimo turno. O la valla spacca. Cioè il campo di sinistra è totalmente inutile. Mi ero scordato di dirvelo. Perché appunto passavano tutte le carte sul centrale. Prima del turno finale. E adesso vediamo qua come va. O la valla spacca. Aia. Nel complessivo. Abbiamo più punti noi. E quindi vittoria. E andiamo. E andiamo. E andiamo. Così si fa. E andiamo. Ce la siamo sudata questa. La vittoria più sofferta. La vittoria più sofferta. Quella più difficile. Ragazzi. Iscrivetevi al canale. Per non perdere i gameplay di tutti i giochi. Per smartphone. Ma anche di giochi per playstation. Nintendo switch. Per non perdervi tutti i video sui retro game. Per non perdervi tutti gli acquisti videoludici. Che faccio ogni mese. Di console. Di videogiochi. Di console di nuova generazione. Ma anche di retro game. E per non perdervi tutti gli altri contenuti. Regali agli anime. A manga. Ai libri. Ai fumetti. Al collezionismo di action figure. Alle sorpresine. E a tanto. Tanto altro. Ancora. Noi ci becchiamo. Al prossimo video. Ciao. Belli.